Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Prima di tutto fatemi ringraziare Roberto e Augusto, due nuovi abbonati alle mie video lezioni che trovate sempre sul canale in una playlist dedicata. Al campionato del mondo Blitz siamo passati al sesto turno ed una delle partite più belle combattute è di nuovo quella di Karzen, stavolta di bianco contro il forte e grande maestro russo Fedosev. Partiamo. Magnus Karzen, campione del mondo anche Blitz, apre la partita con D4. Il russo risponde con cavallo in F6, C4 e E6. Con cavallo in F3 si evita il cavallo C3, la probabile Nimzo indiana, Fedosev gioca una linea molto poco giocata H6. H6 controlla questa casa G5 e allora Karzen, visto che comunque è una piccola perdita di tempo, apre il fianchetto. G3, alfiere in B4 con scacco, Karzen copre lo scacco di cavallo, quindi cavallo in B che va in D2 e spinta al centro in D5. Cosa minaccia Fedosev? Fedosev minaccia di catturare il pedone perché il cavallo è inchiodato sul re. Allora arriva lo scacco di donna, donna in A4 con scacco che attacca anche l'alfiere. L'unico modo di salvare il pezzo è giocare cavallo in C6, ma adesso dopo A3 che minaccia l'alfiere, in qualsiasi caso o che l'alfiere torni indietro o che l'alfiere venga cambiato sul cavallo, la donna da A4 sta proteggendo il pedone in C4. Allora il russo decide di cambiare l'alfiere sul cavallo con scacco, l'alfiere ricattura a rocco corto per il nero. Karsen completa il fianchetto con l'alfiere in G2, salto del cavallo in E4. Questa è una bella mossa, quindi il nero minaccia di togliere a Karsen la coppia degli alfieri, Karsen la coppia degli alfieri non se la vuole far togliere, gioca alfieri in F4 che è una novità perché nell'unica partita tra grandi maestri che mi è rimasta in database e giocata nel 2008, il bianco aveva giocato torre in D1, c'era stato il cambio cavallo su alfieri e la ripresa di torre in D2. Quindi mossa 10, alfieri in F4, la partita diventa originale. Donna in D7, ecco questa è una mossa un po' strana, forse il nero vuole il cambio donne, quindi Karsen toglie subito la sua donna da A4, la riporta in C2, il bianco sta meglio, arriva a B6, a rocco corto completa lo sviluppo di Karsen. Allora anche il russo completa lo sviluppo con alfieri in B7, ma guardate che bella armonia mi sembra ci sia nel campo del bianco, torre in A che va in C1, un'altra bella mossa di Karsen, la torre dove va? Proprio sulla colonna che si potrebbe aprire. Allora arriva a 5, C per D5, infatti apre la colonna e per D5, fermiamoci un attimino, un quizzino al volo? Cosa giochereste voi al posto di Karsen? Ve lo dico subito? Perché tanto è un quizzino, non è il nostro quizzone. Allora mi sembra che cavallo in E5 sia una mossa, oppure mi sembrava che cavallo in E5 fosse una mossa che si giocasse da sola, quindi è una mossa molto forte, infatti è la mossa migliore. Ma dopo che il cavallo cattura il cavallo in E5, guardando bene la posizione, si capisce che invece c'è parecchio da ragionarci sopra. La continuazione interessante, infatti, non è alfiere per cavallo. Andiamo a vedere velocemente che succede, perché dopo alfiere per cavallo, la torre in A si porta in C8, non si può catturare il pedone in E7, perché questo alfiere non si muoverà più da lì, arriva F5, torre in F7, il nero è in vantaggio. Allora dopo il cambio dei cavalli in E5, la continuazione è veramente interessante, ma molto lunga per arrivare in fondo e valutare effettivamente cosa può succedere, e donna cattura in C7. Ora qui si minaccia di riprendere il pezzo, quindi di vincere il pedone. Donna per donna la torre ricattura, il bianco sicuramente riprenderà il pezzo. Ma come siamo messi invece a pedoni? Il cavallo torna indietro, minaccia il pedone centrale, la torre si riprende il pezzo e il bianco di nuovo minaccia di portarsi con un pedone di vantaggio. Il cavallo però cattura, e cattura con tempo, perché qui minaccia non solo un altro pedone, ma uno scacco che poi gli sciupa la struttura. Allora il bianco deve perdere tempo con torre in E1, torre in A che va in C8 minaccia l'invasione, ma la cattura, torre cattura in B6, lascia il bianco in una posizione troppo forte, perché anche se la torre nera invada in C2, è semplice difendersi. Re in F1, arriva la seconda torre, quindi il cavallo si sposterà, ma qui alfiere in H3 è buona per vari motivi, perché migliora la posizione dell'alfiere, lascia anche la casa G2 al re, e vedremo dopo a cosa serve. Cavallo in D2 con scacco, qui conviene cambiarci l'alfiere, alfiere per cavallo, la torre ricattura, ma alfiere in G4 protegge tutto quanto. Non si può giocare H6, scusatemi H5, perché c'è l'alfiere che lo cattura, allora dopo G6 arriva E3 con tempo, cavallo in E6, torre in E2 sorretta dall'alfiere, vedete, qui anche se gli da scacco il re si sposta a posizione vincente per il bianco. Allora, ritorniamo indietro, quindi questa cavallo in E5 effettivamente ottima, però c'è poco tempo in queste blitz, 3 minuti più 2 secondi per mossa, per arrivare in fondo a queste conclusioni. Allora, cosa fa Karzen? Riporta indietro la donna in A4, inchioda il cavallo sulla donna, però attenzione perché se è vero che questa donna nera è sospesa, è sospesa anche la donna di Karzen. Allora, torre in A che va in C8, attenzione che qui c'è il ritornino, quindi se il nero vuole cambia le donne, torre in C2 per raddoppiare i pezzi pesanti, Fedosev prima spinge in G5, il fiere sotto attacco si porta in D2, il cavallo che si muove in E5 porta sicuramente al cambio donna, e qui naturalmente non si può prendere il cavallo, se no si perde la donna. Donna per donna, il cavallo ricattura, raddoppio delle torri sulla colonna C, arriva C6. Fermiamoci un attimo, qui è chiaro che, guardate brutto questo alfiere, guardate che bella coordinazione di pezzi che ha Karzen, qui è chiaro che il bianco sta comunque meglio. Ora, alfiere in E3 non mi dispiace per niente, e invece guardate un po' quanto fastidio gli dà Karzen in questo cavallo. Lui vuole, non dico obbligarlo, ma invogliarlo a cambiarsi sull'alfiere. Allora gioca a cavallo in E1, che naturalmente perde un tempo, perché dopo che il cavallo cattura l'alfiere, torre per alfiere, torre in E8, e invece Fedosev non cambia. Gioca C5, allora qui sarebbe buono cambiare, e poi giocare alfiere in E3, e invece Karzen si vuole liberare di questo cavallo. F3 veramente lo spinge al cambio, cavallo cattura in D2, la torre di cattura arriva a C4. Ora, senza quel cavallo che lo infastidiva terribilmente, vediamo il piano di Karzen che si mette in moto. Arriva E4, ecco l'idea del campione del mondo, la conquista del centro. Cavallo in E6 sicuramente sbagliata, perché arriva E5 con tempo, quindi il cavallo costretto a tornare indietro, anche a disconnettere le torri. Cavallo in C2, e guardate che bella manovra che ha trovato Karzen, il cavallo, con il centro in mano, il cavallo che verrà centralizzato. Quindi bella posizione per il bianco. Mossa 25, cavallo in G7. Cavallo in E3, arriva a B5. Attenzione, il contrattacco del nero, l'unico possibile sul lato di donna, ma Karzen non gli dà tregua, gioca F4. Qui si minaccia la cattura, e quindi di creare il passato connesso. Allora bisogna difendere assolutamente il pedone, con torri in F che va in D8, arriva però F5. F5, guardate, il cavallo si può anche muovere in G4 adesso, con gravissime minacce. Adora H5, giocata da Fedosev, a controllare questa casa G4 è ottima. H4, buona anche questa di Karzen, G4, vuole tenere chiuso il lato di re, ed è l'idea migliore. Ritorniamo un attimo indietro, come mai è l'idea migliore? Dopo G per H4, arriva subito F6, che è una mossa che va giocata subito, perché tanto è tutto, è una mossa con tempo, quindi il cavallo si porta in E6, solo adesso si ricattura, guardate che succede, Alfieri in F3 arriva con tempo, il re si sposta, prima di spostarsi, ci può anche essere torre in G2 con scacco, il re si sposta. Qui è una posizione disastrosa per il nero. Allora fa bene Fedosev a tenere tutto chiuso, e però, ora, il problema diventa anche il tempo, perché alla mossa 30 adesso, da giocare per Karzen, Karzen ha 20 secondi sull'orologio, Fedosev soltanto 12, cosa bisogna giocare? Subito F6, come dicevamo, e poi dopo cavallo in F6, e invece arriva torre in F2. Se adesso il nero gioca F6, la situazione si complica, perché dopo F6, E6, c'è la manovra di re, re in F8, re in E7, la vittoria si fa estremamente complicata da trovare, e invece Fedosev gioca a B4. Arriva fortunatamente per Karzen F6, cavallo in E6, cavallo in F5. C'è ancora un leggero vantaggio per Karzen, ma qui, questo spostamento della torre, ha dato tempo a Fedosev anche di, migliorare leggermente la sua posizione sul lato di donna. Allora, il re nero si sposta in F8, cavallo in E7, che naturalmente alla mossa 33 viene giocata al volo, che cosa fa? Attacca la torre, e sembra un cavallo fortissimo, questo è il famoso cavallo piovra, di Agab Mator, di David Dolci, e invece purtroppo in questa posizione, sì, non è un cattivo pezzo, ma non è forte come in altre posizioni simili. Ma qui naturalmente si sta andando a distinto, la torre sotto attacco si porta in C7, A per B4, A per B4, torre in D1. E come mai questa torre in D1, scusate, ritorno indietro di una mossa, sono andato un po' troppo rapido, perché al bianco gli è rimasto sotto attacco, naturalmente, il pedone centrale. Come si difende? Con la torre, ma non certo con questa torre qui, perché bisognava portare l'altra torre in F4, che quindi difendeva, ma rimaneva sulla colonna e l'altra era libera di fare il proprio gioco. Quindi, mossa 35, torre in D1 è passiva? Pensate, adesso la partita è tornata in parità. Guardate il buon Fedosev, torre per cavallo, il pedone ricattura, il re ricattura il pedone in E7, alfiere in F1, torre in A8. Questa è la torre attiva, e per questo motivo non bisognava bloccare questa torre sulla difesa del pedone centrale. Allora, torre in F che va in D2, libera l'altra torre, arriva alfiere in C6, quindi guardate Fedosev come si ricompatta, re in F2, Karza migliora la posizione del re, torre in A2. Re in E3, ora, il re centralizzato è anche un pezzo forte, in questo finale, guardate come difendendo il centro, libera entrambe le torre, arriva alfiere in A4. Torre sotto attacco, si porta in C1, alfiere in B3. Allora, alfiere in G2, attacca il pedone centrale, il cavallo è costretto a tornare indietro in C7, e mossa 43, Karzene al volo, gioca Re in F4. Questa è la prima mossa che mi era venuta in mente anche a me, e invece, naturalmente, è un gravissimo errore, e siamo arrivati al nostro quizzone. Cosa vuole fare giustamente Karzene? Karzene vuole fare piazza pulita dei pedoni sul lato di Re, per crearsi la coppia di pedoni passati, e invece, c'è qualcosa di forte per il nero. Quindi, cosa può giocare secondo voi il nero? Mettete pure in pausa, se volete, e da voi la parola. Ritorniamo alla nostra partita, perché, come abbiamo visto nella nostra lezione sulla scelta della mossa migliore, bisogna guardare anche il difetto. Qual è il difetto di questa mossa? Il difetto di questa mossa è che si lascia la difesa della torre. E allora che succede? Succede che se il nero trova C3, questa è una mossa terribile, non si può catturare il pedone perché si perde la torre piena, quindi, ma Fedose, vedete, frecce gialle, la manca completamente. Ora, come deve continuare il bianco? Il bianco deve spostare questa torre, deve pure metterla su casa scura, perché se la mette su casa chiara gli regala un altro tempo, ma vedete che questa torre rimane comunque sospesa, seppur al sicuro, allora il nero può migliorare l'alfiere, il Re deve tornare indietro, perché qui bisogna eliminare assolutamente questo pedone, ma guardate che succede, C per B2. Torre in B1 a bloccare il pedone, torre in A3 arriva con scacco, Re in D2, torre in D3 con scacco, il Re si porta vicino al pedone e il bianco questo pedone lo eliminerà sicuramente, ma gli cascano entrambe le basi delle altre catene pedonali, perché vedete, con il pedone in G4 impossibile per il bianco proteggere, per esempio, G3. allora il cavallo catturerà in D4, la torre catturerà in G3, Re che cattura in B2, calo in D4, casca anche G3, il bianco oltretutto non ha buone mosse, e posizione facile da vincere, dominante per il nero. Ritorniamo a noi, invece, dopo Re in F4, cosa fa Fedosev? Naturalmente lui si preoccupa di questa invasione, gioca a cavallo in E6 con scacco, che gli blocca oltretutto l'accesso a G5, quindi Karzen, all'occasione di tornare indietro e di rimettere la partita in equilibrio, gioca Re in F5, e adesso è sicuramente perduto, perché Fedosev trova C3, disastro totale, torre in F2, torre che cattura sorretta dal pedone, raddoppio delle torri sulla colonna F, alfiere in C2, arriva con scacco, guardate brutto, qui il Re non si può muovere, che cosa si può fare? Eh, qui si può soltanto interferire con l'alfiere, che poi tutto verrà ricatturato, si figlia matto, quindi bisogna sacrificare la torre sull'alfiere, torre che cattura l'alfiere in C2, la torre ricattura, l'alfiere gli è rimasto sotto attacco, ma cattura in D5, catturando in D5, e fa anche una cosa buona, perché impedisce al secondo pedone di avanzare in B3, e allora, visto che questo non può avanzare, dovrà avanzare l'altro, bisogna fargli posto, allora arriva torre in D2, torre in A1, arriva C2, attenzione perché brutto anche, brutta anche questa possibilità di cattura del cavallo con scacco, che protegge il pedone, quindi si può giocare torre in D1, allora torre in A7 con scacco, il Re si porta in D8, torre che cattura in F7, cavallo cattura in D4 con scacco, Re in F6, torre in F2 con scacco, mossa 52, giocata da Fedosev, Karzen abbandona, e come mai? Perché quando il Re si sposterà, Re in G6, dopo il cambio delle torri, torre per torre in F7, l'alfiere riprende la torre in F7, il pedone semplicemente promuove a donne. Bruta botta, questa sconfitta per Karzen, che con due sconfitte di fila, si trova a dover inseguire un trio di testa, composto da Mamediarov, Kravsiv e lo stesso Fedosev. Come al solito, vi lascio la classifica aggiornata al sesto turno in descrizione, spero che anche la partita di oggi vi sia piaciuta, se vi è piaciuta non scordate il like, ma soprattutto non scordate di iscrivervi al canale, e noi naturalmente ci vediamo domani con un nuovo video. A presto! Grazie a tutti!